Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Ricorda di iscriverti e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie. Oggi parleremo della tanto attesa card contro il caro spesa, che era stata preannunciata tempo fa da Francesco Lollobrigida. Beh, sembra che sia quasi pronta per essere distribuita. Per celebrare questo evento, Giorgia Meloni ha realizzato un video in cui illustra le funzioni di questa card, ora chiamata Dedicata a te. Nonostante il nome possa far pensare a un prodotto di bellezza, si tratta invece di una card anticrisi economica, con un valore di 380 euro, istituita dal governo italiano. Nel video, Meloni spiega che l'inflazione ha colpito duramente gli italiani negli ultimi mesi, motivo per cui il governo ha studiato diverse strategie di intervento. Tra queste misure, il potenziamento dei salari più bassi e l'estensione del numero di famiglie che possono beneficiare di aiuti per pagare le bollette elettriche. Tra le varie soluzioni proposte, Ecco la dedicata a te. Una card destinata a 1,3 milioni di famiglie in difficoltà per l'acquisto di beni di prima necessità, a causa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi di beni e servizi. Meloni parla anche di Caro Carrello e di come il governo abbia stanziato 500 milioni di euro per sostenere queste famiglie. La card sarà disponibile in tutti gli uffici postali italiani, e una volta attivata, le famiglie selezionate avranno la possibilità di spendere circa 400 euro, 382 euro e 50 centesimi per la precisione, per l'acquisto di beni di prima necessità. Importante da sottolineare è il contributo della filiera che si è attivata, dai negozianti alla grande distribuzione organizzata, GDO, passando per l'Inps, le poste italiane e Francesco Lollobrigida. Sono stati inoltre stanziati ulteriori 120 milioni tramite associazioni del terzo settore per la creazione di un banco alimentare. La card dovrà essere attivata entro il 15 settembre. Non sarà necessario fare richiesta. Saranno i comuni, in collaborazione con l'Inps, a individuare le famiglie bisognose. Questa è un'iniziativa una tantum, rivolta alle famiglie con un reddito Isee annuo inferiore ai 15.000 euro. Non avranno diritto alla card le famiglie che percepiscono già. Reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, altre misure di inclusione sociale e sostegno alla povertà. Famiglie con almeno un membro percettore di naspi, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, CIGI o cassa integrazione guadagni, o qualsiasi forma di sostegno erogato dallo Stato per disoccupazione involontaria. I fondi delle carte non attivate entro il 15 settembre saranno distribuiti tra gli altri beneficiari. Questo perché è necessario utilizzare l'intero importo stanziato. Inoltre, la somma potrà essere spesa entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ora vorrei sapere cosa ne pensi. Per favore, lascia un commento per condividere la tua opinione su questa misura e non dimenticare di iscriverti se non lo hai ancora fatto. Grazie per la visione e ci vediamo nel prossimo video.